Antonio Fosson, prima giornata di Consiglio regionale, 15esima legislatura, abbiamo eletto Presidente del Consiglio, 18 voti con 13 libertà, ma lei dice sarà un Presidente di tutti comunque. Anche l'altra volta nella 14esima legislatura il Presidente era stato votato con 18 consensi e non alla prima votazione, quindi questa volta andiamo già meglio. Io cercherò di essere Presidente di tutti, proprio per ricominciare un dialogo con quelle forze con cui adesso non c'è, di ricostruire quel tessuto politico che è così fantumato ora in Val d'Aosta. Una maggioranza 18 di nuovo? Sarà difficile gestire la questione dell'Ama? Intanto 18 sono già una maggioranza, in questo momento il non fare il governo sarebbe stato molto brutto per tutta la Val d'Aosta, poi questo è un progetto aperto, un progetto a cui speriamo che si aggreghino delle altre forze. Si è partuti subito con delle difficoltà a eleggere l'ufficio di presidenza, con le vicepresidenze, insomma come la vedi rispetto al futuro? La volta scorsa è iniziato molto peggio. Grazie.